Mi chiamo Umberto Rizza, nella vita faccio il naturopata, cioè mi interesso di iridologia e fiori di bacca in maniera particolare. Favignana per me è una grossa fetta della mia vita, è molto molto importante perché ci sono nato, cresciuto, anche se poi ho studiato fuori e poi sono venuto qua a fare il farmacista e l'ho fatto per 30 anni. Io sono convinto che Favignana ha un magnetismo molto particolare che attrae le persone. Ricordo quando abitavo a Trapani per motivi di studio, la notte mi sognavo Favignana, regolarmente, quasi sempre, quasi ogni notte. Credo che la cosa più importante sia sostanzialmente il rapporto umano, il fatto di avere gente con cui poter cambiare esperienze, conoscenze, informazioni per una crescita costante che porti a migliorarsi sempre di più.